Cosa state cercando esattamente? Di ricostruire il più fedelmente possibile come è morta Giannira e soprattutto quando è stata aggredita. Io ho partecipato anche alla perizia, sono consulente chiaramente della famiglia a 360 gradi, essendo psicologo ho partecipato anche a quell'attività. L'ala mia è completamente capace di intendere di volere, quindi sotto il profilo giudiziario la perizia ha certificato la piena capacità di stabilire cosa fare e di volerlo fare. Quindi sotto questo aspetto nulla rileva i fini giudiziari, la perizia lo rende pienamente imputabile.